La prima cosa che viene in mente quando rientri qua dentro, insomma, rivive un po' tutti i trascorsi che ho fatto da ragazzino, giocando e poi di conseguenza iniziando a fare il tecnico, quindi è un'emozione grande. L'Enadi sicuramente è un posto conosciuto a tutti e quindi fa sempre piacere tornarci. Sì, i miei inizi sono stati qui a Pescara con le giovanili, poi la prima squadra, ho fatto un po' di anni qui dove mi sono tolto parecchie soddisfazioni con il Pescara, poi ho fatto le mie esperienze fuori casa che mi sono servite soprattutto come crescita sportiva ma anche umana. Ho visto tanti posti belli, sono contento, insomma, del mio percorso perché sicuramente ho avuto la possibilità di fare belle esperienze. Sono quattro Open Day di pallanuoto con la Petruziana Sport che ringrazio la società che ha messo a disposizione, insomma, un'organizzazione per fare questo primo Open Day e quale cornice migliore per farlo all'interno di un pallapallanuoto sperando che i ragazzini e le ragazzine, perché comunque è un Open Day aperto a tutti, maschi, ragazze e comunque anche adulti, quindi non ci sono preclusioni, i ragazzi possano passare una mattinata insieme, socializzando, condividendo la pallanuoto che comunque è uno sport di squadra dove ti permette comunque di stare a contatto e divertirsi e comunque fare anche un buon lavoro.